Riqualificazione della pista ciclabile di via Vittorio Veneto, una nuova caserma per i carabinieri, il collegamento tramite pista ciclabile con i comuni vicini e gli incroci con la via Mantova. Il comune di Vescovato programma diversi lavori e progetti da attuare nei prossimi mesi. Si partirà dalla pista ciclabile che collega il comune alla chiesa di San Bartolomeo, in prossimità della via Mantova, e proprio quell'incrocio preoccupa l'amministrazione comunale. Abbiamo attivato già nei mesi scorsi dei contatti con l'amministrazione provinciale per risolvere alcune problematiche sulle strade di proprietà della provincia e anche sull'ex SS10, sulla via Mantova, che è in fase di ritorno sotto la manutenzione dell'ANAS, cui devono essere verificate e eventualmente progettate altre opere che si inseriscono nell'ambito di alcuni incroci da mettere più in sicurezza di quanto già non lo siano. Gli altri progetti in cantiere riguardano la nuova caserma dei carabinieri e l'idea di mettere in comunicazione Vescovato con i comuni vicini attraverso un sistema di piste ciclabili. Sto pensando alla riproposizione e alla continuazione del progetto sulla nuova caserma dei carabinieri per la quale siamo già entrati in stretto contatto con il nuovo comandante provinciale dell'arma che ha dimostrato la sua ampia disponibilità al progetto e poi abbiamo in mente di attivare delle progettazioni anche concordemente con altri comuni vicini di alcune piste ciclabili. Questa è ancora una fase embrionale, però tendiamo ad offrire questo ulteriore servizio.